Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Fa fatica ad imporsi l'anticiclone. Il tempo sarà buono, ma non mancherà una locale instabilità. Vediamo il dettaglio di martedì 30 maggio. Sul Veneto sarà soleggiato cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Poi nel pomeriggio aumento della nuvolosità sulle zone montane, dove la probabilità di precipitazioni sarà in aumento, come detto nel corso del pomeriggio. Minime tra 14 e 19 gradi, massime invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane saranno possibili locali temporali sui rilievi. Altrove prevarrà il sereno. Temperature minime comprese tra 16 e 18 gradi, massime sui 25 e 27 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo ampi spazi soleggiati al mattino, a seguire annuvolamenti e rovesci a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 13-15 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. Atreviso e Montebelluna. Lolato. Soluzioni per star bene.